Debrevitate vite, il dialogo trattato sulla durata dell'esistenza dell'uomo. Il dialogus del Debrevitate vite è uno dei dialoghi di Seneca composto probabilmente tra il 49 e il 52 a.C., lo stesso periodo in cui Seneca ritornava dall'esilio. È un protrettico, cioè uno scritto di esortazione alla virtù, di cui il dedicatario risulta essere Pompeo Paolino, nonché suo suocero e prefetto dell'Annona, cioè della disponibilità e del prezzo corrente dei generi di prima necessità e in particolar modo dell'approvvigionamento di grano. Il tema è la durata della vita, è lunga infatti per chi la usa bene, brevissima invece per chi usa il tempo in attività inutili. Vita si utiscias longa est. Probabilmente in quel periodo Paolino stava per lasciare questa sua presigiosa carica pubblica e agli occhi di Seneca egli appariva come un principianti di filosofia, quindi cerca di preparare l'amico ad uno stile di vita in cui non si lasciasse sopraffare tal tedio, dovuto adesso alla mancanza di impieghi, ma che trascorre al stesso tempo dignitosamente. Seneca conduce il dialogo con uno stile discorsivo e tende a persuadare il destinatario attraverso una serie di paradossi, secondo le abitudini della filosofia stoica, abbracciata appunto da Seneca, circa l'efficacia di una vita impiegata nella ricerca della verità e della saggezza. Infatti possiamo notare come il termine vita non designa semplicemente la vita biologica, ma anche il modo di vivere, per cui vita spesso va inteso come il bene vivere. Nel dialogo oppone gli uomini occupati, ovvero gli indaffarati affaccendati, ai sapientes, gli oziosi, i saggi. Gli occupati sono coloro che passano l'intera vita in attività inutili, hanno sprecato tutto il tempo a disposizione e si accorgono di non essere vissuti solo quando la morte gli si avvicina. E sarà proprio in quel momento che si renderanno conto di non essere appartenuti a se stessi e di non aver goduto del più grande dono ricevuto. Tra i modelli di questo dialogo, alcune movenze sono a livello della diatriba cinico-stoica, come ad esempio chiamare in causa l'interlocutore, prendere in esempio il mito, citare detti, proverbi, massime anche sentenze. Il proemio delle debbre vitate vite offre un esempio eloquentemente esplicativo dello stile di Seneca, lo ritroviamo ad esempio nelle anafure, nelle ripetizioni e ricorso a metafore tipiche come quella dello scorrere rapinoso del tempo fiume e quella del tempo denaro. Complesso invece trovare il giusto equilibrio tra il tono aulico dato dalle figure retoriche e registro colloquiale ed intimo che comunque Seneca mantiene. Maior parse mortalium, pauline, de nature malignitate conqueritur, quod in exigum evi gignimur, quod ec tam velociter, tam rapide dati nobis temporis spazia decurrant, adeo ut exceptis, ad modum paucis ceteros in ipso vite apparato vita destituat. La maggior parte dei mortali o paulino si lamenta con queritor della scarsa generosità, dei malignitate, della natura. Perché quod siamo generati gignimur per una breve esistenza? E perché questi intervalli ec spazia, di tempo a noi concesso, dati, scorrerebbero, de current, così velocemente, tam velociter, tam rapide, così precipitosamente. Tanto che, adeo ut, esclusi molto pochi, exceptis ad modum paucis, gli altri, ceteros, la vita li abbandona, destituat, proprio nel preparativo della vita. Dunque, il verbo della principale risulta essere conqueritur, di cui il soggetto è maior parse, e ritroviamo due causali che si susseguono, entrambe introdotte da quod, che sottolineano inoltre la figura retorica dell'anafora, che ritroviamo tra l'altro anche in tam, tam velociter, tam rapide. La prima causale indica un dato di fatto, mentre la seconda indica le lamentele degli uomini. A queste seguirà poi una consecutiva, ovvero adeo ut, che precede invece un ablativo assoluto, ovvero, exceptis ad modum paucis. Nè a questo generale malanno, come lo ritengono, ut opinantur, solo la folla e il volgo ignorante, ha rivolto in gemuit i suoi gemidi. Questo sentimento, icad vectus, ha suscitato evocavit le lamentere querellas, anche di uomini famosi. Ut opinantur introduce una modale e la breve frase risulta essere anche un incidentale. Inde illa maximi medicorum exclamatio est, vitem brevesse, longam artem. Da ciò deriva, inda est, quella esclamazione del più grande maximi dei medici. La vita è breve, lunga l'arte. Quell'inde iniziale, ovvero avverbio di moto da luogo, formerà con l'inde della frase successiva un'anafora. Il verbo della principale è est, ed exclamatio risulta essere il soggetto della principale. Medicorum è un genitivo partitivo, retto da maximi, che a sua volta dipende da exclamatio. Come abbiamo potuto notare, frase emblema di questa prima parte risulta essere vitem brevem esse, longam artem, la prima sentenza che ci dà appunto Seneca. Inde aristotelis cum rerum natura exigentis, minime convenens sapienti virulis est. Etatis illam animalibus tantum indulsisse, ut quinaut dena secula ed ucerent. Omini intam multa ac magna genito tanto citeriorem terminum stare. Da ciò inde deriva est la controversia lis di Aristotele, che fa i conti exigentis con la natura. La controversia è sottinteso per nulla minime conveniente per un uomo sapiente. Illam essa agli animali ha concesso indulsisse tanto tempo che, ut, essi sottinteso, allevano ed ucerent cinque o dieci generazioni, quina o dena, mentre per l'uomo, omini, generato, genito, per fini così numerosi e così importanti, sussiste stare un limite tanto più ridotto. Un limite terminum, tanto più ridotto, citerorem. Ecco di nuovo quell'inde in apertura della frase, che con l'inde precedente formerà appunto l'anafora. E ritroviamo un participio convenens concordato con l'is, il verbo della principale indulsisse, di cui il soggetto è illam, e successivamente ritroveremo ut ed ucerent, che introdurrà una consecutiva. Non exigum temporis abemus, sed multum perdidimus. Satis longa vita, et in maximarum rerum, consumazione mellarge data esse, sitota bene collocaretur. Sed uvi per luxum ac negligentiam diffluit, uvi nulli bone rei impenditur. Ultima dedum necessitate cogente, quam ire non intelleximus transisse sentimus. Noi, soggetto sottinteso, non abbiamo abemus, poco exigum, tempo, ma molto ne perdiamo, perdidimus, perfetto risultativo. E' stata data, est data, una vita abbastanza satis lunga, e abbastanza, lo sottointendiamo nuovamente, generosamente, large, per la realizzazione, in consumazionem, di grandissimi risultati. Quindi, sì, se tutta fosse impiegata, collocaretur bene, ma quando uvi scorre via diffluit nel lusso per luxum e nel disimpegno, negligentiam, quando uvi non viene spesa in penditur per nessuno scopo buono, rei bone, alla fine, demum, costringendoci cogente l'estrema necessità, ci accorgiamo sentimus che è passata, transisse. Sottointendiamo la vita, che, quam, non abbiamo compreso intelleximus che se ne stava andando ire. In questa parte è sicuramente ben espressa la teoria di Seneca riguardo il tema in questione, e grazie all'esposizione di queste frasi emblematiche e pregnanti, appunto, di significato, dei primi versi. Nel secondo periodo ritroviamo un periodo ipotetico misto, formato da data S, che consiste nella podosi di primo tipo, e collocaretur, invece, forma la protasi di terzo tipo. Segue poi l'anafora di Obi. Ritroviamo poi l'ablativo assoluto costituito da ultima necessità decogente. In questi versi, inoltre, presenta anche il chiasmo. Quel quam, invece, che segue dopo. Introduce una relativa. E così. Ita est. Risulta essere una formula di conferma tipica della tradizione della diatriba cinico-stoica. Non riceviamo acipimus, breve la vita, ma la rendiamo fecimus. O per meglio dire, non è breve, ma breve l'abbiamo resa. E non siamo poveri di essa, ma prodighi. Come le ricchezze, sicutopes, grandi e regali, Quando sono giunte per venerunt ad un cattivo padrone, In breve, momento, si dissipano, dissipantur. E invece, at, per quanto, quan vis modeste, Se, sì, sono state affidate, tradite, a un buon custode, crescono, crescunt, con l'utilizzo, usu. Così, ita, la nostra esistenza, per chi la gestisce bene, disponenti, Participio presente e sostantivato, è molto ampia. Anche qui il periodo si apre con una frase ad effetto, E molto esplicativa riguardo il tema che tratta, In cui possiamo notare ancora una volta L'accostamento tipico dello stile di Seneca Tra presente e il perfetto. In questo caso il presente di Accipimus Con il perfetto di Fecimus. Infine, l'ultimo periodo del capitolo Si apre con una grande similitudine Nella quale la durata della vita viene associata All'immagine delle ricchezze e degli averi di un cattivo padrone Il quale non sa proprio prendersene cura. Il quale non sa proprio prendersene cura.